Il film di oggi è Solo cose belle, quindi oggi Solo cose belle vediamo, che è il film che si ispira alla comunità fondata da Don Benzi, comunità intitolata Papa Giovanni XXIII che è attiva da diversi anni in Italia e che è attiva nel campo del volontariato, ha fatto, ha creato molte case famiglie e mense per i poveri, molto attiva nel sociale per uno sguardo particolare verso i più poveri. Dal ritratto di questa associazione il regista esordiente Christian Gianfreda ha voluto fare un film che non fosse solo un'opera divulgativa del bene che fa questa opera, ma un film vero e proprio. La bellezza di questo film, la forza di questo film, molto semplice ma anche molto profondo, è riuscire a raccontare in modo divertente e anche commovente, in modo comunque coinvolgente, una storia di buoni sentimenti. Ne vengono prodotti uno ogni cinque anni di film di questo genere, interpretati anche da ex tossi dipendenti, ex prostitute, da persone comunque che hanno vissuto in prima persona i problemi raccontati dal film. Nonostante questo, nonostante questa ovviamente, questa sorta anche di volontariato che c'è nel cast del film, il film è molto ben scritto, molto ben sceneggiato e molto ben diretto, quindi è un film sicuramente godibile oltre che utile, fra virgolette, se è anche essere approfondito dopo la sua visione. Buona visione e spero che piaccia anche a voi.